Per il tuo cane di piccola taglia c'è una nutrizione studiata apposta per lui. È Purina One My Dog Is, nutrizione avanzata, specifica per cani di piccola taglia. E ora scopri la qualità di My Dog Is anche nelle deliziose ricette in salsa, che il tuo cane amerà e di cui tu puoi fidarti. Purina One My Dog Is, ricette in salsa.